Spazio aereo iraniano chiuso per il cancelliere tedesco Angela Merkel. Il capo del governo di Berlino ha raggiunto l'India in ritardo, dove era attesa per una visita ufficiale, perché l'è stato temporaneamente vietato di sorvolare l'Iran. L'Irbius, una volta entrato nei cieli della Repubblica Islamica, è stato costretto a invertire la rotta e ritornare indietro in quello della Turchia, che ha dovuto sorvolare finché da Teheran non è stata rilasciata l'autorizzazione. La pausa forzata è durata nel complesso un paio d'ore, trascorse in trattative tra i ministri degli esteri tedesco e iraniano con la mediazione di Ankara, un dispetto che inasprisce i rapporti tra Berlino e Teheran. Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore iraniano in Germania.